Beh, raga, e bentornati da Star of Fire Oggi, raga, un video molto veloce per dirvi che d'ora in poi ci saranno... Cioè, i video saranno programmati, così almeno avrete... Cioè, saprete quando ci sono E così almeno ve li potete andare a vedere Comunque attivate la campanellina qui sotto, ragazzi, che almeno vi arrivano tutte le notifiche Allora, ragazzi, partiamo Il lunedì con Fortnite Poi, martedì, Rainbow Mercoledì, DBD Poi ripartiamo con giovedì, Fortnite Venerdì, Rainbow E poi, eh... Faremo magari una settimana sì, una settimana no Che il sabato portiamo DBD Una settimana sì, una settimana no, appunto Ehm... Questi qua sono tutti gli altri giochi che ho Se volete magari... A parte Destiny, ragazzi, che non ci gioco E se volete video su qualche altro gioco scrivetemelo qui sotto Comunque, per ora, ragazzi, il... La classifica, diciamo, dei giochi che porterò in settimana è questa Quindi, appunto, eh... Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì E poi, se... Ho tempo, più che altro, raga Ehm... E il sabato porterò DBD E quindi, ragazzi, rimanete sintonizzati già oggi sul mio canale Che da oggi si parte E oggi vedrete un bel video su DBD, ragazzi Let's go, bella Iscrivetevi, lasciate like e condividete questo video il più possibile E schere